Eccoci all'ingresso del Palumbo Reef anche se il nome italiano questo è un villaggio di carattere assolutamente africano stasera poi è una serata speciale perché i Masai allestiscono il loro mercato la luce che vedete è così russastra è quella che il sole sta tramontando dalla parte oeste dell'isola e questa è la chiave della nostra stanza questa è la reception ti troviamo com'è che ti chiami? Anna sorridente e gentilissima come tutto il personale del Palumbo Yonuccia che carina ecco guardate qui c'è un grande affare statuette di evano bracciali poi stasera ci sarà pure lo spettacolo Masai la strada dove abitava Ciro si possono trovare tutte le cose che servono è la social bar adesso andiamo anche noi a vedere le mancarelle questa è la contena che vi accoglie l'ingresso vedete ci sono tutti i mosaici che stanno allestendo il loro mercato qui è tutto maggiore andiamo dentro grazie a tutti i miei grazie a tutti i miei grazie a tutti i miei grazie a tutti i miei